Sono arrivati quattro killer, due sono entrati nella cucina dove stavo io e mio marito. Sentirò per sempre quel puzzo di spolvere da sparo. Quei botti non li dimenticherò più. Perché collabora? Perché denuncia? Mi ero stancata di vedere queste vedove camminare nel mio paese con questo fazzoletto nero in testa. Incontra Paolo Borsellino? Lo vedevo come una persona normale. Io siccome lui aveva quell'accento forte palermitano, gli dico veramente lei con questo accento palermitano mi sembra un mafioso. Lui scoppia a ridere. Rita è l'altra donna della sua storia. Rita Atria per me sulla carta era mia cognata, ma per me era una grande amica. Ha detto io so ancora più di mia cognata, mi voglio parlare. Su tutti i canali c'era la notizia. Noi non avevamo perso un giudice, noi avevamo perso un padre. Vera lei è la prima deputata testimone di giustizia, eletta con il Movimento dei Cinque Stelle. Dopo aver vissuto 27 anni nell'anonimato più assoluto. Eh sì, uscire fuori è stato drammatico. Io ho avuto lo speciale cambio di generalità. Neanche la campagna elettorale si è potuta far vedere. Ho dato la mia adesione all'oscuro del servizio centrale di protezione. Il problema era che dovevo firmare questi documenti per accettare la candidatura davanti al notario. È stata roccambolesca la cosa. Ho preso un aereo. Ne ho presi quattro nel giro di quattro ore. Perché? Ho fatto località protetta a Roma, Roma, Palermo, per evitare che chi mi venisse a prendere all'aeroporto scopriva da dove io arrivavo. Dentro l'aeroporto stesso ho firmato i documenti con un notaio. Mi sono rimessa nell'aereo. Da Palermo ho fatto a Roma, a Roma località. E quindi lei è entrata in Parlamento con il suo vero nome. Come Pier Aiello, ma io ci tenevo in più, avevo deciso di candidarmi a Trapani, proprio nella zona di Trapani. Perché io da lì sono andata via e lì dovevo tornare. La storia di Pier Aiello si lega indissolubilmente alla storia di un'altra donna, Rita Atria, e la storia di due donne che si ribellano alla mafia e che nel loro percorso di collaborazione incontrano l'allora procuratore di Marsala, Paolo Borsellino. La sua vita cambia la sera del 24 giugno del 1991. Eh sì. Quando nella pizzeria che lei gestiva con suo marito, Nicolò Atria, a Montevago, a pochi chilometri dalla sua partanna, entrano quattro killer e uccidono suo marito. Lei c'era? Sono arrivati quattro killer. Due sono entrati nella cucina dove stavo io e mio marito e lavapiatti. Mio marito mi dà una spinta e gli dice no, non toccate mia moglie, io vado a sbattere contro uno di loro, gli acchiappo il fucile, questo mi acchiappa per il collo e mi mette la testa dentro il lavandino. Nel frattempo sparavano a mio marito e lo uccidevano. Sentirò per sempre quel puzzo di polvere da sparo. Quei botti non li dimenticherò più. Il 24 giugno viene ucciso suo marito e lei decide subito di andare a denunciare... Io ho riconosciuto i killer. Perché collabora? Perché denuncia? Mi ero stancata di vedere queste vedove camminare nel mio paese con questo fazzoletto nero in testa come segno di sottomissione. E incontra Paolo Borsellino. Io non sapevo manco il significato di procuratore della Repubblica, io lo vedevo come una persona normale. Io siccome lui aveva quell'accento forte palermitano, gli dico, veramente lei con questo accento palermitano mi sembra un mafioso? Lui scoppia a ridere. Vedevo che tutti lo seguiavano, lo rispettavano. Siccome nel mio paese tutte le persone che venivano seguiate che erano la metà mafiosi, gli dicevano tutto onorevole, gli dico, senta, scusi, onorevole. Lui fa, alto, prima mi dice mafioso, adesso onorevole. Chiamami zio Paolo, così non ci sbagliamo più. E da allora per me, per mia figlia e poi per Rita, è diventato zio Paolo. Rita Atria. È l'altra donna della sua storia. Rita è la sorella di Nicolò. Sì. Più piccola di lei. Sì, 17. Era 17 anni. E lei per Paolo Borsellino era picciridda. Quando arrivavamo in procura facevo le picciridda, arrivarono per dire mia figlia Rita, perché avevo la bambina di tre anni, io non l'ho mai lasciata. Rita Atria per me, diciamo, sulla carta era mia cognata, ma per me era una grande amica. Dopo che io ho denunciato a luglio, lei inizia di sua spontanea volontà la procura di Sciacca, ha detto, io so ancora più di mia cognata, mi voglio parlare. Poi una sera vanno due killer a casa sua, perché la vogliono fare fuori, la prendono i carabinieri, la portano via e arriva a Roma con me. Rita è stata con me fino a cinque giorni prima di morire, nel mio appartamento con me. Viveva qui nel quartiere tuscolano, in via Amelia, al numero 23, Rita Atria, in una casa protetta. Una settimana dopo la strage di via D'Amelio, la sera, dal settimo piano di questo palazzo, si butta e si uccide. Lascia scritto sul diario le ultime sue parole. Ora che Borsellino è morto, nessuno può capire che voto ha lasciato nella mia vita. Tutti hanno paura, ma io l'unica cosa di cui ho paura è che lo Stato mafioso vincerà e quei poveri scemi che combattono contro i mulini a vento saranno uccisi. Prima di combattere la mafia, devi farti un esame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi, è il nostro modo sbagliato di comportarci. Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi, ma io senza di te sono morta. Stavamo davanti alla televisione di domenica e su tutti i canali c'era la notizia. Noi non avevamo perso un giudice, noi avevamo perso un padre. Rita subito disse è finito tutto. Le stesse parole che disse Caponnetto. Lei si è sentita sola, ma con tutto l'amore che io gli potevo dare. Lei non gli bastava, perché l'amore di una mamma non si può sostituire. Lei era stata rinnegata dalla madre. La salma fu portata nella cappella, nella tomba atria, ma la madre, dopo aver con il martello rotto la lapide di Rita, la trasferì nella tomba della sua famiglia, perché aveva infangato la famiglia atria. Questo era l'ultimo sfregio che poteva fare alla figlia. Non solo rompe la lapide, prende la figlia dalla tomba degli atri e se la porta le cannova per dire tu hai tradito, te ne vai fuori. Ecco dove viveva Rita Atria, a Partanna. E questo è il palazzo dove viveva Pier Aiello, alla periferia di Partanna. Lei era innamorata di suo marito? Io non ero innamorata. Quando ho conosciuto Nicola, era un bel ragazzo. Nicolò o Nicola? Io lo chiamavo Nicola, però lui scriveva Nicolò. Perché sulla sua tomba c'è scritto? Nicolò. Quando l'ho conosciuto era un bel ragazzo, era come un primo amore, un'infattuazione. Io avevo 14 anni, lui 17. Viene vicino a me una mia amica che mi dice, i soci dicono che è un mafioso. Chiedo a Don Vito Atria perché lo chiamassero mafioso e lui mi dice no ma qual è mafioso? Ma perché io? Se rubano le pecore le faccio trovare, se rubano le pecore le faccio trovare, invece magari era lui. Da lì decido di lasciare il mio ragazzo. Dopo due ore, guarda, due ore esatte, arriva Don Vito Atria a casa mia e mi dice in qualsiasi posto andrai sarai sempre mia nuora perché tutte abbiamo una famiglia a cui vogliamo bene. Mi stava minacciando che se non avessi sposato il figlio avrebbe ucciso la mia famiglia. E quindi si è sposata? C'eravamo sposati, noi eravamo ancora in viaggio di nozze a Madrid, ci chiamano e ci dicono che Don Vito Atria è stato ucciso. Il contesto di Don Vito Atria si inserisce in una faida, una faida sanguinosa di Partanna che oppone la famiglia degli Ingoia alla quale apparteneva Atria e quella degli Accardo. Gli Ingoia sono i vecchi mafiosi, gli Accardo sono i nuovi che sono sostenuti da Totorrina. È una faida nella quale spara Matteo Messina Denaro. È una faida che segna la trasformazione della mafia. Dalla mafia dei campieri, dei terreni a quella nuova degli Accardo alleate Corrina che sul territorio hanno la necessità di far circolare le raffinerie di eroina ma non solo. È la mafia che diventa impresa. Fino a quando Don Vito Atria era vivo mio marito non ha mai osato alzare un tono di voce o una mano su di me. Inizia a spacciare droga, armi e io ogni volta che trovavo droga o armi a casa mia glieli buttavo. Lui mi massacrava. Pure incinta di otto mesi mi prende a calci nella pancia io mi abbraccio mia figlia nella pancia per proteggerla perché gli avevo buttato un panetto di hashish. Sei anni dopo viene ucciso. Viene ucciso perché vuole vendicare la morte del padre. Forse non aveva una piena consapevolezza da dove venivano quei killer. Purtroppo lì è un ambiente che c'è la mafia c'è ancora oggi un mese fa è stato arrestato l'ultimo degli Accardo e i suoi legami con Matteo Messina Denaro Nicola Accardo che non è uno sconosciuto agli organi investigativi in cui erete. Nicola Accardo riceve il primo ordine di cattura nei primi anni Ottanta e fugge in Venezuela. In Venezuela esiste una cosca di mafia ed è una cosca di Matteo Messina Denaro. Sono finite le guerre di mafia con questo padrino latitante oramai da un quarto di secolo che è Matteo Messina Denaro. Sì e dall'inizio degli anni 2000 non ci sono più guerre tra famiglie. I perdenti possono guardare al proprio orticello e in alcuni casi in provincia come ad Alcamo addirittura ci sono state delle alleanze tra vecchia e nuova mafia tra perdenti e vincenti. Lei quindi a Partanna non ci va? Sono andata a diversi anni il 26 di luglio per ricordare Rita e ogni tanto senza far sapere nessuno va dal cimitero. Una cosa che faccio da sempre compro due mazzi di fiori e una rosa. Un mazzo di fiori lo porto a mia nonna Piera il mio nome la donna che è stata grande e che mi è stata sempre da insegnante. un mazzo di fiori lo porto a Rita una rosa la porto a Nicola lascio la rosa e gli dico io una rosa te l'ho portata ma non te la meriti. grazie a tutti. Grazie a tutti